passiamo adesso a lorenzo balducci che ci racconta di allegro non troppo una novità nella programmazione dell'off off con la stand up comedy allora raccontaci un po di questo spettacolo si è una novità anche per me perché la mia prima stand up comedy e la prima di mariano lamberti il regista dello spettacolo come no è scritto da maria lamberti con riccardo pechini e ed è un viaggio dissacrante all'interno della comunità lgbt sì quindi è uno sguardo ironico si ironico spietato su tutti quanti si codicinismo anche ma giusto un pizzico quando dico pizzico è chiaramente un eufemismo rivolto a tutti quindi non si salva nessuno me compreso quindi perché l'importante quando si fa quando si mira diciamo si punta una pistola bisogna farlo anche verso se stessi quando certo per essere un po di autocritica quello sempre quindi è ed è la mia prima volta qui all off off quindi sono quindi si è emozionato estremamente sì 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 quindi è una prima assoluta è una prima assoluta la prima dopo il covi della prima la quarantena sì sì ovviamente speriamo che poi questo spettacolo possa viaggiare naturalmente si è l'idea l'idea è quella e allora il nostro lorenzo balducci con dall 8 al 10 dicembre allegro non troppo stand up comedy show all off of theater lorenzo grazie mille in bocca al lupo e buon teatro grazie